Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In A1 a causa di un veicolo in avaria si registrano 6 km di coda tra Firenze in Pruneta e in Cisaregello in direzione Roma. Sempre in A1 si ricorda che fino alle 18 del 25 febbraio rimarranno chiusi per lavori i tratti tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra il Bivio con la variante del Valico e Aglio in direzione Bologna. In Fipili a causa di lavori due chilometri di coda tra Lastra Segna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Sulla regionale due casse a causa di lavori chiuso il tratto tra Poggio Estriano e Castiglione d'Orcia in entrambe le direzioni. A Firenze possibili disagio alla circolazione per intervento urgente di Publiacqua in via Bolognese all'altezza di via Massoni. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!